La prima partita alla Lube Non è stata la nostra squadra durante la prima partita E sapevamo che potevamo fare molto molto meglio E lo sapevamo come faremo Di più con questa energia che abbiamo ricevuto dal pubblico Oggi era pieno e aiuta questa cosa Aiuta tanto e l'abbiamo bisogno Perché la nostra squadra funziona E funziona con queste cose Con l'energia, la grinta Il fatto di andare a cercare dei punti difficili E sì, portare l'energia a tutte queste cose Ne abbiamo bisogno tanto, tanto, tanto Adesso c'è la gara 3 A Civitanova Che partita invece sarà? Sarà ancora diversa perché sarà fuori E adesso noi dobbiamo fare qualcosa di più Perché non avremo questo aiuto del pubblico E dobbiamo andare e cercare per forza una partita da casa l'ora E poi se la vinciamo dopo la giochiamo la qualificazione a casa nostra È una bella cosa Allora dobbiamo andare al 100% fiducioso Con la fiducia di quello che abbiamo fatto fino adesso Una nota di merito anche alla tua prestazione di stasera Che ha davvero dato un apporto veramente, veramente importante alla squadra Sì, sì, sono contento di me Sono contento della squadra Ma adesso dobbiamo Io devo rifare questa cosa Tra 3 giorni E poi la squadra deve seguire Cioè dobbiamo aiutarci tutti Tutti tra di noi